Lo Stato c'è, ci sono tanti cittadini in difficoltà, vorrei dire loro che non stiamo girando il volto, lo sguardo dall'altra parte, siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono. Lo Stato c'è, queste le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'annuncio della firma sabato sera dell'ultimo decreto riguardante l'emergenza coronavirus. Molte famiglie, da quando è stato imposto lo stop alle attività lavorative, si sono ritrovate senza alcuna entrata e in molte città del mezzogiorno la fame ha spinto molti ad organizzarsi e assaltare i grandi supermercati, a difesa di quali, in diversi casi, sono stati posti i reparti mobili della polizia. Non abbiamo più soldi! Non abbiamo più soldi! Non abbiamo più soldi! Non fanno la stessa! Per scongiurare la rivolta, il Premier ha annunciato l'erogazione di 4,3 miliardi a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, a cui si aggiungono ulteriori 400 milioni destinati ai comuni, i quali dovranno riconvertirli in buoni spesa o direttamente in generi alimentari e beni di prima necessità da consegnare alla fetta di popolazione più indigente. Di questi 400 milioni, 320 sono distribuiti in base al numero di cittadini residenti in ogni comune e i restanti 80 in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascuno degli 8 mila comuni italiani. All'annuncio di Conte non sono mancate le critiche, in primis da parte dei sindaci, tra questi via il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il 4,3 miliardi che Conte dice di dare ai comuni e li mette nel calderone dell'attività di sostegno ai comuni in questo momento di crisi non è null'altro che l'anticipazione del Fondo di Solidarietà Comunale, cioè soldi dei comuni che i comuni accantonano durante l'anno precedente e che il governo in qualche modo poi stanzia trasferendoli ai comuni l'anno successivo. Lo scorso anno fu trasferito il 20 di marzo il 70% del fondo, ieri con un decreto del 28 di marzo viene trasferito il 66%, quindi nulla di straordinario. Ma soprattutto questi fondi non sono fondi che servono né per affrontare la emergenza finanziaria che noi abbiamo rispetto ad esempio alla Tari, che non stiamo mandando a casa della gente, non stiamo pretendendo di esigere, ma che comunque costituisce la copertura di un costo fondamentale, che è quello dell'igiene urbana, cioè della raccolta dei rifiuti. Quei 4 milioni e 3 non servono per affrontare la crisi, ma servono per fare quello che era già previsto e sono soldi che già i comuni avrebbero dovuto avere. Cosa diversa sono i 400 milioni. I 400 milioni sono invece un finanziamento dedicato all'emergenza che viene dal Covid-19, ma sono una miseria, sono elemosina per i comuni italiani, sono elemosina e illusione per i cittadini. Ora noi li accogliamo ovviamente con spirito positivo, perché è un primo segnale, ma questo primo segnale durerà un batter d'occhi per i cittadini. Già da ieri sera io sono stato raggiunto da decine e decine di telefonate e di richieste via social su come questa mattina, cioè lunedì, si potesse accedere a questi benefici. Ovviamente quello che Conte dice in televisione la sera non corrisponde ad un'azione al mattino nei comuni, non solo nel mio, perché bisogna predisporre degli atti, bisogna che le cose siano fatte con trasparenza, non bisogna creare diseguaglianze tra chi potrà ricevere e chi invece aveva diritto ma non riceverà questo beneficio. Quindi comunque ogni singolo comune che stabilisce i criteri in base ai quali vengono erogati questi fondi? E questa è l'altra criticità che io ieri ho sottolineato anche con l'Associazione Nazionale dei Comuni, perché pur essendone io vicepresidente non è che sono uno che non ragiona con la propria testa o che si lascia abbagliare dai flash della ribalta nazionale. I problemi sono oggettivi, uno tra questi è sicuramente la disparità che si potrebbe creare, quantomeno la diversità di trattamento che si potrebbe creare tra un comune e l'altro. Io con gli altri sindaci di comuni capologo di provincia almeno cercherò di fare sintesi affinché le nostre azioni possano essere comuni e le nostre esperienze possano essere messe insieme in modo che la risposta possa essere univoca. Perplessità sono state espresse anche dalla Commissione Antimafia, che parla di un combinato disposto su cui le mafie sono pronte ad approfittare. Ad ogni modo il Ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha dichiarato che ad aprile sarà disposto un nuovo provvedimento con ulteriori fondi. È chiaro che non potrà esaurirsi qui, ha ammesso il Ministro. Non possiamo pensare di esaudire le esigenze dei cittadini che non possono comprarsi un pezzo di pane.